No, capitano, non si trova nessuno manco morto. Sì, sì, ho messo l'annuncio anche sul resto del rabbino. Che poi io sono stufo di star qui da solo con sto eremita che vuole sempre giocare a nascondino. Trovami, trovami. Che poi con due metri quadrati di grotta si nasconde sempre sotto al tavolino. Eccolo. Un, due, tre per Milane. Ok, ne troverò io uno bravo e con esperienza, le farò sapere. Arrivederci. Avanti. Benvenuti, buongiorno. Buongiorno. Saluto americano, iniziamo bene. Prego. Va bene, dai, prego, com'è, dai. Alzati. Sei qui per? Ah, non posso dire che se chiami siete. Ostaggio o kamikaze? Oh, non so mia mona, kamikaze. Va bene. Come ti chiami? John. Anche il nome americano? Sì, eh, vabbè, tanto tutti quanti facciamo cristiano. Anche. Lavori precedenti? Guarda, l'ho fatto il fachin e l'ho partecipato anche al grande fratello il Cinque. L'ho vinto un pompeo, eh. Ma che c'è? Ti vedo un po' sbattuto. Ah, siamo un perdono, va. Fare lì, c'è la voce a panna, bomba. E te vedi, c'è la grassa di mina. Stai dritto quando ti parlo. Le tue esperzioni quali sono? Oh, guarda, guarda, c'è un bel ambiente. Posto di lavoro sicuro. Per arrivare a pensione. Ti dirò di più. Fino alla morte. Esperienza nel settore? Esperienza nel settore? Cambi case. Cosa sai che ti intendi per esperienze nel settore? Dammi da lei. Lei? Cosa sai che ti intendi per esperienze nel settore? Tu non hai capito. Qui vogliamo fedeli esperti. Il nostro popolo ha bisogno di essere liberato dal potere che ci opprime. Qui abbiamo bisogno di gente tutta da un pezzo. Ma, aspetta che io ciò qua, va. Il prossimo!